Nello, parliamo di questa intelligenza artificiale moderna, che chiaramente è un'intelligenza artificiale credo molto diversa da quella delle persone, c'ha il GPT ma anche le reti neurali per riconoscere l'immagine e generarle, non ragiona come noi, io non ho mai risposto una domanda perché mi sono letto tutte le pagine web del mondo, tutti i libri, i libri in formato elettronico che trovo in internet, mentre GPT lo fa. Allora è un'intelligenza artificiale diversa, ma secondo te noi come facciamo a interagire con questa intelligenza artificiale che è una forma che non è proprio il nostro modo di ragionare? Oppure dimmi se tu pensi… No, è giusto, sono d'accordo, è della parte più difficile, è anche la parte più interessante perché noi esseri umani siamo antropocentrici e immaginiamo sempre un'intelligenza umana dall'altra parte. Lo facciamo anche con gli animali spesso, lo facciamo anche con tante situazioni, c'è sempre qualcosa di umano e in questo caso abbiamo creato un oggetto che è estremamente alieno a noi, nel senso più profondo della parola e non sappiamo cosa fare con questa cosa qui. La risposta prima è sarà come noi, quindi vediamo GPT che conversa e l'istinto è c'è qualcuno dall'altra parte e invece poi non c'è niente perché è un meccanismo e quindi ci fa un senso di ansia notevole perché è come andare nella cabina dell'aeroplano, aprire la porta e non c'è nessuno. Qui c'è un meccanismo che parla e non c'è nessuno dietro, è un'illusione. E questo però è una cosa che si può capire in qualche modo pensando all'intelligenza in un modo diverso che è il seguente, l'intelligenza è una cosa non esclusivamente umana come tipo di abilità e infatti è chiaro che esisteva su questo pianeta ben prima del primo uomo per dire che non è una cosa umana e quindi non richiede il linguaggio, non richiede la cultura o la coscienza, l'autocoscienza, forse neanche il cervello. È possibile che avessimo piccoli casi di intelligenza negli oceani primordiali in cui i creatori inseguivano le trede, nel senso che se usi informazione per prendere decisioni, per seguire degli obiettivi, è la forma di intelligenza. Ovvio che un ameba non è intelligente come un cane o come una persona, ma si parla di gravi. Una volta che capiamo che l'intelligenza non è una cosa umana ci chiediamo cos'è e la questione è tutto sommato, i psicologi tanti hanno preso la strada dell'intelligenza umana, il test di acquiescente intellettivo basta vedere come è fatto, o quelli che studiano gli alieni la ricerca per l'intelligenza extraterrestre hanno dei messaggi che mandano completamente antropomorfi, mandano i numeri primi, mandano invece chissà cosa c'è lì, come si fa mandare un messaggio con numeri primi a un banco d'alghe. Non ha mica detto che c'è un cervello. Forse anche un animale di altro tipo. Ma basterebbe anche un essere umano di mille anni fa che non capirebbe. E' talmente assurda l'idea, questo Karl Sagan, che faceva questi messaggi per gli alieni scritti con la fisica teorica, per gli universi studenti di fisica teorica e questi riuscivano a decodificarli. Vedete che funziona, l'intelligenza universale. Io ho provato col gatto, nel mio libro si parla di me, che mostro, il libro della scorciatoia, che ho mostrato al mio gatto i messaggi di Karl Sagan e il gatto se ne è fregato. Perché ovviamente non sono messaggi destinati a ogni tipo di intelligenza. Bene, per concludere, uno psicologo però, Jean Piaget, già diceva che l'intelligenza vuol dire sapere cosa fare quando non si sa cosa fare. Slogan classico della psicologia. Cioè, quando uno è in un'istituzione nuova, senza un copione, non l'ha prevista, non l'ha programmato, immaginiamo una scacchiera con la configurazione mai vista prima. Se l'avessi vista prima, avrei la look up table e direi in questo caso fai questo. Scacchiera nuova. Certo. Cosa fai? Documento da produrre? Nuovo. Messaggio di email da filtrare? Nuovo. Una cosa nuova non si può memorizzare, bisogna ragionare in su e questo è l'intelligenza. Lo fa la gallina per attraversare la strada. Lo fanno tutti questi meccanismi qua. Se si pensa così, non è più così strano interagire con una forma diversa. Meccanismi. Esatto, sì. Tra l'altro tu l'hai detto, la cosa incredibile è che sembra, se tu fai le domande a CiaGPT, sembra ragionare come noi. Ti dà un po' l'idea di ragionare come noi. Anche se io quando lo spiego, perché ha superato chiaramente il test di Turing CiaGPT, non ti rendi conto. Invece, se tu riesci a spiegare, che alla fine, adesso ho detto molto brutalmente, è tutta statistica, no? Ti trova la frase più probabile e quando deve fare qualcosa la prende un po' meno, il famoso punto della temperatura che in CiaGPT scelgono per far sì di non dire la fase più probabile e essere un po' più creativo, no? Però ecco, io credo che se tu capisci anche un po' che alla fine, come ragione, sia più facile interagire, no? Ragione in un modo diverso, ragione per la probabilità. Sì, però la parola chiave è come noi, oppure in modo umano. Ovvio che non pensa come noi e in modo umano, ma questo non vuol dire che non pensi, perché devi stare attenti qui. Non c'è dubbio che questa cosa qua, non dico pensi o ragioni, comprenda il mondo in qualche modo, ma non è il nostro modo. Però devi stare attenti, perché da un po' che dico è una cosa statistica, è vero, perché la facciamo, la guardiamo, impariamo statistica. È ovvio che è un meccanismo statistico, però attenzione che questo non esclude che possa comprendere il mondo. I nostri neuroni hanno molte pubblicità statistiche, ma collettivamente comprendono il mondo. Un meccanismo come GPT puramente statistico, quando ha 14 strati di astrazione in cascata, l'ultimo strato ha una comprensione del mondo, ma di tipo interamente non umano. I concetti che usa, non c'è motivo che siano i nostri concetti. Quindi non abbiamo delle parole per quei concetti. E quindi non c'è modo di capirsi, nessuno può spiegarlo, perché ci mancano i termini per i concetti che servono a lui. Quello sarà una sfida seria. Senti, ti voglio fare una domanda un po' più pratica. C'è tantissima ricerca o tentativi di utilizzare questo tipo di intelligenza, language models e così via, cercando di fare quello che tutti chiamano il fine tuning, su applicazioni specifiche. Ad esempio, c'è un gruppo nostro che cerca di usarlo, di usare la tecnologia che c'è sotto c'è il GPT per comprendere clausole versatorie in un contratto. Quindi per i giudici, quindi anche un obiettivo eticamente positivo. Ecco, tu credi in questo filone di ricerche che poi va su instruction fit, imprompting, tutte queste cose? Cioè, sfruttare la grande capacità linguistica di chat GPT, ma a un certo punto specializzarla per dei casi più specifici e magari anche più controllabili? Secondo me l'obiettivo finale è usare le cose. Io mi diverto a fare le teorie. Se io portessi dai fondi del tempo, prenderei GPT e studierei a fondo in generale cosa non può fare, cosa può fare, perché, quando, la teoria. Ma alla fine il vero motivo per fare queste cose qua è che qualcuno deve usarlo. Quindi se mi dici c'è gente che vuole fare il fine tuning, applicarlo ai contratti, per fortuna. A me non sono capace, ma c'è bisogno di queste cose qua. Alla fine bisogna usarlo. Il meccanismo lo chiamano foundation model, quindi il nome è una fondazione sulla cui base bisogna produrre dei prodotti. Un prodotto può essere traduzione, risposta alle domande, educazione, scuola, correggere gli esami, un altro potrebbe essere i contratti. Ora c'è questa fondazione. A me interessa capire come fa a funzionare la fondazione, ma sarebbe molto sterile se qualcuno poi non lo facesse usare. Per fortuna che c'è questa capacità qui. Hai detto capire le potenzialità e i limiti. Ora si dice che, partiamo un po' di Cialgpt, poi sono l'ergy language. Io sono un grande esperto di quello, sto iniziando a studiarlo, ma... Ma dai te la faccio una, poi andiamo su altre cose. No, ma io sono contento. Si dice che ha quattro principali difetti, secondo me ne è cinque, però ok, quattro. Uno è quello, l'affidabilità, Cialgpt ti risponde con la stessa confidenza, dicendo cose vere e dicendo anche cose false. Due, l'inclusività, siccome è statistica sicuramente le, diciamo, le idee di chi... Uno su un miliardo non conta niente in statistica, no? Quindi l'inclusività. È delle volte utile sapere come la pensa chi va fuori dalla massa. Terzo è il problema dei bias. Io sui bias dico, glieli mettiamo dentro noi i bias, no? Se noi continuiamo a dire la segretaria, è chiaro che tradurrò la secretaria in la segretaria. E quarto, vabbè, quarto, credo che sia veramente un problema significativo, è quello della sostenibilità, anche energetica, no? Perché pretrainarlo vuol dire veramente fare un lavoro molto forte, con tanto potere computazionale e quindi tantissima energia. Poi c'è un po' l'aspetto, come dimostrano anche dei teoremi, che forse non tutto si può dedurre per statistica, no? Cioè, l'esempio, vabbè, l'esempio che viene fatto da un articolo interessante di un ricercatore, era Stanford, ma credo sia tedesco, che dice, beh, non ti fa la parità, no? Dove basta un automa che switcha, perché non ha un meccanismo di ricorsività. In realtà uno potrebbe spiegarlo più semplicemente, beh, non è che Newton ha imparato, ha tirato fuori la legge di gravità guardando miliardi di mele cadere, no? Aveva dei principi d'astrazione. Ecco, su questi problemi qui, tu pensi che sia giusto andare a provare a lavorare? Tu hai delle idee come fare? Perché comunque si possono anche un po' fare, credo, per altre tecnologie, non solo per i language models, no? Un po', diciamo, un po' per le reti neurali in generale? A me interessa moltissimo, sto studiando questo da vicino, non ho tutte le risposte, però sono affascinato, ed è chiaro che qualcosa di notevole è successo negli ultimi due anni con questa cosa qui, quindi sarebbe assurdo per un teorico non guardare. Se uno faceva fisica teorica cent'anni fa, dopo un esperimento delle due fenditure, non si può fare finta di niente. L'effetto fotoletto è un nuovo effetto. L'esperimentalisti hanno prodotto un esperimento nuovo e i teorici devono capirlo. Cosa hanno capito? Cosa hanno prodotto? E questa è la cosa, no? È ovvio che addestrando sue vaste quantità di testo inconcepibili un algoritmo specifico che si chiama il transformer, emergono delle abilità. Lo addestriamo ottimizzando la quantità che si chiama perplexity, che chi fa natural language process, la probabilità di produrre la prossima parola, praticamente. Quello che emerge è qualcos'altro, del problema delle abilità emergenti. Spiegabile o no? Banale, triviale, impossibile? Ognuno ha le sue opinioni, però è un fatto. E in più sembra che emergano in modo, ecco, con delle transizioni di fase, quindi a certe dimensioni la macchina è capace di imparare una cosa in più. Sono cose che vanno spiegate. Allora, le domande erano, uno, i difetti. Chiaro che un meccanismo statistico per generare il linguaggio ha i difetti tutti della statistica, quindi se i dati vengono messi dentro... Come la parola italiana? Perché biased non mi piace. I dati in modo non neutrali, la macchina imparerà delle conoscenze dei dati. E lì è un problema di norme sociali, eccetera. Attenzione che lo stesso segnale è quello che gli insegna tutto il resto, non è che sono due cose diverse. E lo stesso segnale statistico che gli insegna il significato delle parole è quello che noi stiamo anche cercando di mitigare, perché la parola dottore vuol dire dottore, perché è quello che è associato alla medicina, all'ospedale, ai pazienti, statisticamente associato, e poi è anche associato magari ad essere maschio. E il meccanismo è lo stesso, la macchina usa questi segnali qui, ma alcuni sono socialmente non accettabili, altri sì. E infatti la parola bias in statistica è una parola neutra, non ha danno a morale. In sociologia bias è una cosa orribile, perché è una deviazione dal principio di qualità sociale. E stare attenti quando si parla con i sociologi, perché bias vuol dire tutto ciò che non è uguale, per noi lo sfruttiamo statisticamente, perché è un segnale. Anche vicino alla preferenza. Eh sì, però stare attenti a dire le cose bene, perché anche loro hanno le loro ragioni. E poi non è accurato. Allora, il fatto che non sia accurato, perché ogni tanto può sbagliare, è vero. La domanda è se ci sia un'altra scelta, perché è probabile che in un mondo così tanto ambiguo e rumoroso, si dice, chi a casa non capirà un mondo così tanto statisticamente incerto e impreciso. Tutti i meccanismi che li ha fatto noi, quelli esatti, non hanno mai funzionato, perché è un mondo questo che contraddizioni, ambilità, errori. Quindi credo che saremo sempre condannati ad avere una macchina probabilistica. Però possiamo misurare la performance, la macchina deve fare delle previsioni e darci anche la sua stima della credibilità di questa previsione. E noi possiamo usare le fonti e la stima. La macchina potrebbe dire, e non siamo lontani, la macchina può dirmi, questo farmaco può curare questa malattia. Perché? Mettendo insieme questo articolo e questo articolo, la probabilità è l'80%. Allora io ho l'asserto, la formazione, le fonti e la probabilità. Non siamo lontani da questo. GPT è la prima bozza di qualcosa che deve ancora succedere. Ecco perché ho messo la storia del Transformer. Perché? Perché non è mica chiaro se queste abilità emergenti emergano dalla quantità di dati che per la prima volta abbiamo usato o dall'algoritmo che per la prima volta abbiamo usato. Se due cose è messe insieme, è possibilissimo che un altro algoritmo a queste dimensioni si comporti in modo uguale, solo che non sono capaci perché sono troppo lenti. Questo è molto veloce. Ok, chiaro. Il meccanismo della attenzione che manda avanti il GPT, il Transformer, è un meccanismo veloce e quindi ci provete di arrivare a quelle dimensioni lì, per la prima volta. Non sappiamo se è lui responsabile per quale comportamento. C'è da studiare la teoria. Molto molto interessante. Verranno altre generazioni molto migliori di questa macchina. Quindi siamo in un momento di grande cambiamento. Senti, adesso ti faccio una domanda. Una volta in un'intervista ti ho sentito parlare della zampa della scimmia. Ah, ma poi è lunga questa. Il fatto che io mi metta sempre a parlare di scorciatoie non è che sono ossessionato, è che da un lato la scorciatoia è la ricetta che ci ha dato questo tipo di AI che usiamo adesso. Sì. E dall'altro che è la base dei problemi che stiamo osservando. E' utile capire che la vera stesso ingrediente che ci ha dato questo meccanismo è anche la base dei problemi che abbiamo. Perché ci toglie l'illusione di risolvere i problemi senza cambiare le cose. E' chiaro che dobbiamo capirlo a fondo. Le tre scorciatoie, arriviamo lì, alla cosa della zampa di scimmia, e brevissimamente. Tanto il vostro pubblico è diverso dal pubblico generico. Non usiamo più conoscenze simboliche, teorie esplicite. Quelle che si usavano all'inizio dell'intelligenza. Sì, ma anche nella scienza normale si fa un modello teorico con gli assiomi, le deduzioni. Quella cosa lì, i sistemi esperti, non è nel nostro telefono oggi. Non si traduce così, non si riconoscono gli oggetti così, non si fa niente così. Il mondo è cambiato. E quella è la prima scorciatoria. Si chiama la fine della teoria, the end of theory. E poi si prende il problema di dare alla macchina gli esempi da cui imparare. Non si può reclutare una legione di maestre elementari per insegnare a scrivere i pensierini alla macchina. Si prendono i dati dal web, in quantità enormi, che sono gratis. E questa è la seconda scorciatoria. Dati riciclati e regole statistiche. E non si può chiedere all'utente cosa vuoi veramente, perché è estremamente difficile. Se fosse possibile rispondere a che sto dando bene, abbiamo risolto il problema iniziale, abbiamo una teoria di quello che vuole l'utente, ma non c'è. E quindi lo osserviamo. E le metti insieme a tre cose e hai la ricetta per fare TikTok, che ti osserva sempre e capisce cos'è che ti fa cliccare domani, usando la statistica e i dati e l'osservazione. Sta roba qua, cosa può succedere se la metto davanti a un bambino e gli dico fai in modo che continui a cliccare? Beh, sta macchina fa del suo meglio per dare tutti questi segnali statistici, compararlo con tutti gli altri bambini e trovare quello che lo farà cliccare. Cosa può andare male? Ecco perché arriva la zampa di Schindler, se posso permettermi. Questa domanda qua se l'è posta Norbert Wiener, il fondatore della cibernetica, negli anni 50. E lui, che era uno che aveva una cultura pazzesca, perché da piccolo era un bambino prodigio, era sui giornali, era una persona incredibile. Suo padre gli faceva imparare l'odissea in greco e quelle cose lì. Conosceva tutta la letteratura ed era molto, molto appassionato di questo piccolo racconto gotico inglese del 1901, quindi tecnicamente non è vittoriano, ma è eduardiano, di un certo W. W. Jacobs, che era un scrittore di racconti, che si chiama La zampa di scimmia e che racconta la storia di questa famiglia, la famiglia White, nell'Inghilterra vittoriana praticamente, che vivono come vivono poveri con la fabbrica. E un giorno arriva un amico dall'India, che c'erano le colonie, e gli porta questo amuleto, questo talismano, una zampa di scimmia mummificata che può esaudire i desideri. Spesi di lampado da ladino, dai. È la stessa storia, la nostra storia è sempre quella, non sono tante storie nel mondo. E gli dice, attenti, però un vecchio saggio mi ha avvertito di non farlo, perché queste cose non vada mai bene. Il marito, il signor White non è convinto, ma la signora White gli dice, ma guarda che però intanto il mutuo da pagare, la casa, ci mancano 200 sterline. Chiedi quello. E il tipo fa, proviamolo, e chiede 200 sterline. E la zampa fa un movimento minimo, poi si ferma, e tutti dicono una cosa, finisce qui. Vanno a dormire senza soldi, si svegliano l'indomani senza soldi. Passa la mattina, niente soldi. Arriva l'ora di pranzo, niente soldi. Poi arriva un omino, imbarazzato, col capello in mano, a bussare alla porta. E dice, mi manda il padrone della fabbrica. È successo un incidente. La mamma subito ripresce, che è il figlio, sa come sta il bambino. È una storia triste. È stato preso nell'ingranaggio della macchina. E come sta, non soffre più. Non soffre più, non soffre più. E quindi, silenzio, pianti. Questa signora dice, mi ha autorizzato il proprietario della fabbrica a ricompensarvi per la vostra terribile perdita. E le dicono, ma quant'è? Il padre dice. 200 straline. E poi, insomma, il racconto va avanti, perché diventa peggio. Ma l'idea è che la zampa ha fatto letteralmente quello che gli si era chiesto. Quello che gli è stato chiesto, senza tenere conto di altri valori. Chiaro. E Norbert Wiener dice, finirà così, se non stiamo attenti, una macchina che esegue letteralmente gli ordini, senza comprendere il contesto, può fare del male, senza volerlo. Quindi noi abbiamo un po' questo compito di provare a mettere dentro il contesto. E questa è una grande sfida, ma il problema è non di dare i nomi ai problemi. A me è sembrato necessario dare il nome al problema nella zampa di Cine, che è un piccolo contributo da scrittore. E poi c'è la questione di qual è l'esempio più vicino. Per me, in questo momento, l'esempio più vicino è il motore di raccomandazione, Instagram, TikTok, il cui obiettivo è chiaramente, esplicitamente e deliberatamente programmato per tenere la gente a cliccare. E quindi questa macchina qua esegue. Se gli dico, ma sì, però intanto non sarebbe accettabile che il bambino deve fare i compiti ma lo distrae, questo qua diventa dipendente dal comportamento, questo diventa triste, questo diventa radicalizzato e quell'altro polarizzato, non è un problema della macchina, non ha le strutture mentali da capirlo. No, non è tutto quel contesto. E potrebbe essere già successo, perché in Inghilterra c'è questo caso della ragazzina Molly Russell, di 15 anni, che purtroppo ha avuto una morte tragica. Il coronel, nel report, l'altro anno, ha scritto che è stato parzialmente, almeno, ad abiasimare l'algoritmo che raccomandava gli contenuti di autogesionismo senza la sua richiesta. Il che vuol dire che lei si era messa a esplorare questi argomenti e quella macchina si era messa a raccomandarli, più del necessario, più del richiesto, influenzando poi le sue decisioni. Potrebbe essere un esempio di zampa di scimmie. Sì, sì, chiaro. Allora la domanda è come si fa ad aggiustare. Che mi hai fatto? Perché volevo fare il contesto per spiegare. Aggiustare non è facile, perché la vera scorciatoia è questa qua, di andare direttamente... È così che è efficiente a modo suo, no? Sì. E allora ne abbiamo il problema. Da un lato di insegnare alla macchina quello che si chiama value alignment, l'allineamento dei valori, ed è enorme. Dall'altro lato è quello di rimuovere dalla macchina certe tendenze devianti, il razzismo. Tecnicamente non sono poi così diverse. Si sta risolvendo oggi a livello di fine tuning. Cioè il sistema fondational è quello e poi c'è della gente parata per dire questo sì, questo no, questo no. E si tenta di insegnare alla macchina con gli esempi cosa è accettabile e cosa no. Ma è un palliativo, perché il sistema intensicamente non può capire. Anche la parte che prova, ad esempio sono stato il DFKI, quelli che lavorano, il gruppo di Iosef che lavorano in linguaggio natural, stanno cercando di prendere conoscenza in forma di grafico e così via, di buttarla dentro o di utilizzarla per fare il pre-training con quei vincoli. Tu pensi che anche questo sia un palliativo? Non lo so, bisogna provare perché ormai l'opportunità è grande. I fondi li abbiamo. Pensa che questo qui è il momento della storia, secondo me nella mia piccola conoscenza storica, in cui ci sono il massimo dei fondi e delle persone con talento e dei mezzi. Questo è l'anno in cui ci sono il massimo di tutto. Se non capita qualcosa di grosso, il prossimo anno non capita più. Quindi mi aspetto qualcosa di grosso. Abbiamo una grande opportunità. Bisogna lavorare su tutte queste cose, compresa quella della convivenza, perché io devo mettere i bambini davanti a questa macchina senza ansia o devo mettere il mio curriculum nel computer senza... E non credo che sia giusto proibirlo. Io ho visto ad esempio negli insegnanti due diversi atteggiamenti. Quelli che dicono no, c'ha GPT. Poi non è solo c'ha GPT, ma si parla di quello perché... Io parlo di YouTube, perché YouTube può bloccare della gente 8 ore al giorno. Netflix. Sì, io non voglio che le usino. Oppure quelli che dicono no, tanto loro lo useranno. Quindi proviamo a trovare un modo di farlo usare nel modo giusto, senza ansia. Magari capendo dove le cose possono essere utili e meno. Io credo che bisogna avere il coraggio culturale di identificare qual è il vero problema. Perché il fatto che il bambino potrebbe fare il tema imbrogliando... Non può essere quello il vero problema. No. Perché se fosse perfettamente funzionante sarebbe diverso. Il fatto che possa dare risposte sbagliate. Non so se è quello il vero problema. Perché si può giustare. Il fatto che possa essere... Bisogna capire cos'è la cosa che ci disturba. Perché ognuno la cambia mentre parla. E parte del fatto che può sbagliare. Poi può essere razzista. Poi potrebbe essere usato per imbrogliare. Poi togliere il lavoro agli scrittori. Qual è il problema esattamente? Sì sì c'è tutto. Perché se non si dà il problema poi non si... E questa è una cosa che si osserva. Sono tutti molto ansiosi. Tutti molto preoccupati. Poi c'è anche un'altra foto in più che andrebbe detto. Non c'è... Scusate se mi permette. Non dico mai opinioni forti. Io sono sempre... Ma non riesco a capire perché stiamo discutendo di un rischio di estinzione. Ah, estinzione! Ci sono petizioni ai governi. E i governi le accettano e rispondono. Ma si parla di gente che io rispetto tantissimo. Scienziati. Che dicono, cerchiamo di mitigare il rischio di estinzione. Qui si parla della nostra specie e non del panda. Sì sì sì. Noi siamo 8 miliardi. Dovresti dirci almeno un meccanismo secondo il cui potremmo giungere a questa estinzione? Chi no? Ci sono delle isole di gente non in contatto con noi. Nell'Amazzonia e nell'Iceano indiano. Gente che non ha alcun contatto con noi. E vive in questo modo da sempre. Come fanno questi a diventare estinti con le nostre... Non si capisce. E' talmente assurdo il concetto. E se ne parla con grande libertà. Sì. Ed è una follia. Non c'è un rischio di estinzione. C'è un rischio di qualcuno che le usi male. Sì certo. La verità ancora più chiara è che quello che preoccupa molti è che il prossimo anno si vota in Europa e in America. Sì. E non abbiamo alcun modo di fermare se qualcuno ha il codice di questa roba qua. che poi tra l'altro Facebook ha messo online e quindi sta girando. Sì sì c'è c'è. Lama. Lama, pacca... Se uno si mette lì in cantina in qualche parte in un paese ostile e comincia a generare notizie. E' immagine. Sì sì sì. E' filmata. E' una tecnologia potente quindi la puoi usare molto. Ma non è l'estinzione. E' la guerra civile. E' sempre spiacevole. Ma usiamo le parole giuste no? Ma l'hanno già fatto eh Cambridge Analytica. Sì ma io non voglio... Vorrei fermare tutti anche i rischi piccoli. Io voglio mitigare ogni rischio. Sì sì. Però voglio chiamarli con nomi giusti. E almeno riesco a capire come si fa diventare il tente. Io credo che veramente... Sono d'accordo con te. E' un grande momento di opportunità per andare a usare queste cose. E credo che il fatto di usarle... Naturalmente si può usare bene o male no? Sta un po' a tutti noi no? Sta a noi. Sta a chi fa le norme no? Perché poi ci sono anche le regole. Lavorare anche con chi ne sa di norme. Ma sta con chi ne sa di policy maker no? Ma un po' lavorare tutti assieme per cercare di... Questo è il problema. E io mi sono posto questo problema qua già da un po' che ci vado in cerchio no? Perché sta cosa mi fa ansia da un bel po'. La prima cosa che ho fatto era il 2009. E poi ho ansia. Ma ho concluso che la risposta è quella lì. Bisogna coinvolgere i policy makers, i politici, anche gli insegnanti, gli avvocati. Questa gente qua. Cosa ho concluso? Dalle domande che mi facevano. Che queste hanno imparato quasi tutti dalla televisione. Sì. Cos'è? No, bisogna farci che comprendano di più cosa c'è veramente dietro. E si pone il problema del linguaggio. Poi ci sono gli attivisti che anche loro hanno il loro progetto. Ci sono queste delle compagnie. Capire cosa stiamo facendo vuol dire avere un minimo di conoscenza che non è formata dai lobbysti, dagli attivisti, dalla televisione. E mi sono posto il problema del linguaggio. Che linguaggio posso usare per spiegare a tutti cosa dobbiamo fare? Quali fatti dovete conoscere? Cioè episodi. Quali episodi? Quali fatti? Quali numeri? E quali linguaggio? Così potete ragionarci voi. Sì. Certo. E che decidano. Se riusciamo a fare questo forse c'è anche un ruolo per l'Europa. Non c'è alcun dubbio. Non so perché tutti si stupiscono perché devo dire particolarmente in Italia c'è questa tendenza. La vedo adesso perché io vivo all'estero ma sono alcuni mesi che giro per l'Italia. c'è sempre quel mezzo commento nel pubblico. C'è sempre uno. In realtà l'Europa ha un ruolo cruciale in questo momento qui. E' importantissimo. E io non so come dirlo. Ho trovato gente competente. So che è strano a dirsi qua in Italia che il politico... Insomma. Ho incontrato gente competente che da anni ci lavora. Sì. Anche questa legge qui dell'AI Act che abbiamo votato al Parlamento Europeo l'altra settimana. Sì. E' in operazione dal 2019. Prima di GPT. Sì. E questi ci lavoravano da prima. A me mi hanno chiesto di fare un discorso al Parlamento che c'è un gruppo che si occupa di scienza. Sì. Nel 2017. Ma li ho incontrati per parlare di queste cose nel 2016. E c'era già gente che ci lavorava. Sì. Capite? Non è vero. C'è gente che ci lavora su. Ed è l'unico livello quello europeo. Perché gli stati nazionali non possono avere le competenze, il controllo, il potere di fare queste cose. Si è visto con questa cosa del garante della pubblicità. Siamo un paese piccolo. L'Europa è un paese di 500 milioni di clienti ricchi. Facciamo le leggi molto lentamente, con grande cautela, ma quando le facciamo tutti gli altri operatori del mondo che vogliono vendere qui dobbiamo seguire le regole nostre. Certo. E siamo abbastanza tanti e forti, ricchi, da cambiare le regole negli altri paesi. Certo. Il posto giusto è Bruxelles. Certo. Io, fra l'altro, per esperienza mio personale, ho trovato, ad esempio anche in giurisprudenza qui a Trento, dei bravissimi giuristi che hanno la flessibilità di dire no, vabbè, noi non facciamo la regola per fermare tutto, per impedire. Tra parentesi è un punto di ricerca anche per noi, perché anche noi dovremmo evolvere. Qui c'è una tecnologia che va come una schiopettata, va velocissima, cambia. Quindi dovremmo avere, è naturale che poi nelle norme ci sia più tempistica di più, cioè fai la norma prima che entri, vedi l'IAH, adesso arriveranno gli stati membri. Però anche questo dinamismo della parte normativa, io ho visto ci sono delle persone che lavorano in questo settore che hanno voglia, una grande sfida anche per loro. Bisogna solo metterli nelle condizioni di capire. Sì, di capire. Perché è ovvio che finché lavorano sui vecchi concetti, poveri lavorano tanto per poco, ma possono capire. So che è complesso che i Transformers e i GPD sono complessi. No, però, esatto, infatti il nostro compito è anche provare a spiegare i Transformers in modo comprensibile. Ma prima... Che sono andati? No, no, ma la sfida è perché temo che ci bisogna di più, da parte nostra, di più ricerca ancora. Non abbiamo ancora... No, non abbiamo compreso neanche noi. Come comunità scientifica. Però ci arriveremo perché dobbiamo arrivarci. Sì. Ma il punto dell'Europa è questo, che noi vogliamo, ovviamente, proteggere i nostri valori. È l'enorme. Zampa di scimmia insegna che non capiva i valori, senza però bloccare l'innovazione. No. Perché altrimenti non ha senso, perché gli altri ci passano avanti e fanno quello che vogliono. Ce la faranno gli americani e i cinesi. Sì. E quindi questo AI Act, come ha disegnato, è fatto abbastanza bene. Abbiamo questi quattro livelli di rischio. Sì, di rischio. E questo non è il rischio esistenziale di estinzione di cui si parla. No, no. Sono rischi concreti. Il primo rischio concreto è un danno inaccettabile ai valori europei. Quindi sorveglianza. Certo. E quello è non accettabile. Non si farà. L'idea stessa che esista il concetto che certi tipi di usi dell'AI non sono accettabili è un progresso culturale. Sì. Non è considerato. Vuol dire che vanno sempre supervisionati. Sì. Anzi, scusa se ti interrompo. Penso che sia una sfida per noi fare un AI che riesca a superare quelle supervisioni. Cioè è anche una sfida per noi. Per noi di ricerca. L'onere è sul produttore, secondo me. Certo. E rendere la macchina auditabile, ispezionabile, deve essere sul produttore. E poi il terzo livello è minimi richieste di trasparenza. Quarto livello, fate quello che volete. Sì, sì. Quindi l'azienda si può fare quello che vuole. Se però vuoi andare a mettere il software della banca che dai mutui, devi essere ispezionabile. Se vuoi metterlo nelle strade a sorvegliare la gente, non puoi. Ma se vuoi fare videogiochi, puoi. Secondo me è un compromesso ragionevole. Certo. Vediamo cosa è capitato, perché non è finito il viaggio della legge. Questo è il Parlamento. Sì, sì. In genere il Parlamento è dalla parte del cittadino. Ora devi negoziare con la Commissione e il Consiglio d'Europa che sono dalla parte ovviamente degli stati. Sì, sì. Vedremo. Abbiamo questa complessità qui in Europa, che non è un'unica, però vedremo. Ma è sicuramente interessante ed è una via per l'Europa. Una domanda è cosa stanno facendo i media. per divulgare l'intelligenza artificiale. Lo fanno bene, lo fanno male e così via. Io credo che sia una grande responsabilità dei media. Poi voglio sentire quello che dici tu. Una grande responsabilità perché è chiaro che il media tende a fare lo scoop. quindi l'intelligenza artificiale ci estinguerà. Però è qui una grande responsabilità come i media, come gli altri, come i policy mate e tutti quanti, da nostra di spiegarlo ai media e che i media riportino questo fattore, veramente quello che si può fare e quello che non si può fare. che c'è una grande evoluzione invece di riportare lo scoop nei limiti del possibile. È un problema da sempre. C'era già prima dell'intelligenza artificiale. Il ruolo dei media è un ruolo abbastanza difficile. Però è talmente essenziale. L'abbiamo visto con la pandemia anche. Ci sono delle persone in posizioni importanti. Ma gli insegnanti, i giornalisti, i media, la televisione e avanti così. Che dovrebbero comprendere il mondo. E loro lo vuoi comprendere lo spiegarlo. E comprendere la scienza non è facile. Si è capito con la pandemia quando c'era da spiegare cos'è un esponenziale che non vuol dire una cosa veloce. Vuol dire un'esponenziale, matematicamente. E non faccia parte della cultura della giornalistica. Allora noi dobbiamo spiegare le cose meglio che possiamo. Parlare con i giornalisti è meglio che possiamo. E dobbiamo fidarci. Però è ovvio che, di volta in volta, se qualcuno di loro comincia a fare cose scandalistiche, cercare di farmi litigare, cercare di farmi dire cose polemiche, io di carattere personalmente non amo fare né polemiche né litigare né criticare gli altri. Io mi rifiuto e parlo di cose che conosco. Poi non mi mettono un'intervista. È successo. Non me la mettono. Però di più non succede, insomma. Secondo me i media, prima giustamente Nello diceva, ci devono essere i tecnologi ricercatori, ci devono essere i giuristi, chi ne sa di norma, ci devono essere i policy makers, chi ne sa di politiche, di regole sociali e così via. E anche i media fanno parte un po' di questa catena, no? È importantissimo. Però c'è una cosa positiva, possiamo dire. Perché, come politici, diciamo, hai i media. Ho visto dei disastri, ma diciamo così bene. Ho scoperto negli ultimi quattro mesi in Italia tanti giornalisti dedicati. Che hanno voglia di capire. Che capiscono o che hanno voglia di capire. E ne ho trovati diversi. Quasi mi vergogno a essere sorpreso. Perché non dovrei essere sorpreso. Ce n'è. Ovvio che gli altri fanno più rumore. E poi tutto è un problema di solita questione. Però c'è gente in giro che ci prova e che sa e che fa. E tutto sta ad essere positivi. Passare il tempo con quelli lì. Quei politici europei che hanno la competenza, quei giornalisti che hanno la competenza. Magari non sarà clamoroso, ma si fa progresso così. Convergimento e imparegimento Che cosa cambia. Che cosa cambia. Grazie a tutti. Ho scoperto. E tutti i miei ma sono amico.